Ti muovi nella vita, non ti dai una mossa a trovare da mangiare, ti cagano in testa anche te i piccioni, ti cagano. Ma non lo so, ma non lo so, ma non lo so, ma non lo so, ma non lo so. Ma non lo so, ma non lo so, cappuccetto rosso, dove è andata a finire? Capirai, l'ho vista, che c'aveva una pancia, c'aveva, l'avrò infiocata a cosoli. Il cacciatore, ne aveva tre e quattro, ne aveva tre nella pancia per me. Ah, mo carina, se nella vita non ti svegli, ti ritrovi a trent'anni, ti ritrovi che c'hai una fiumana di figli, ti dà il calcio nel culo tuo marito, se t'era mica lì che diventi una batilarda, diventi. Ma non lo so, ma non lo so, ma non lo so, ma non lo so, sento le voci, sento. Ma non lo so, ma non lo so, i tre porcellini. Che cazzo avranno fatti i porcellini? Ah, dì, state a sentire, uno l'hanno buttato lì su uno scranno, l'hanno buttato. Andato a fare il politico, è andato a fare. Non lo so. L'altro fa il postino, fa. E il terzo, hanno fatto tutti i ciccioli, hanno fatto. Non lo so, non lo so, ma non lo so, ma di, carina, se non ti svegli nella vita, ti danno una coltelata, fanno tutti i cotechini, i ciccioli anche di te fanno. Non lo so, non lo so. Non lo so, ma non lo so, ma non lo so, ma non lo so, i sette nani. Sono un botto, sono, i sette nani. Cosa vuoi che sappia? Da sentire, due li ha messi in casa integrazioni, li ha messi. Gli altri due li hanno buttati lì dove ci stanno i cosi, dove stanno tutti quei drogati là, vedo. Gli hanno buttati laggiù dove ci sono tutte quelle robe che si bucano, che è più in cui c'entra di accoglienza, li hanno buttati. Siamo a quattro. Gli altri due, non lo so, e uno l'hanno amassato, uno, va bene, l'ha presa sotto. Non lo so. Non lo so, non lo so, non lo so. Vuoi sapere chi ha presa sotto? Cuccio l'ha presa sotto. Secco! L'ha presa sotto quello lì? Non lo so. Quello lì che va in giro con la zucca? Quella busona lì che stava con coso stava? Il parente di quell'altro, dai! Che si è messo con coso? Quella rotta in culo di ceneritola, dai! Ma non lo so. Ma non lo so, non lo so. Ma non lo so, carina, che te c'hai cinque anni, stai lì a pensare che esiste il principe azzurro, esiste. Ma sta buonina, che botte acqua fresca dalla mattina alla sera! Altro che è il principe azzurro, il principe, il principe azzurro, il principe, no? Non lo so. Ma che quando diventi donina, la vedi la pallina anche te? Altro che non lo so. Ma non lo so, signora, dove è finita la bambina? Ma cosa vuole che sappia io? Sono stata lì tutto il giorno sul divano, ogni tanto mi sono fumata una paglietta, mi sono fatto un goccino, mi sono fatto il bidecco al ghiaccio, mi sono fatto. La bambina era lì che girava, l'ho vista che si è buttata sugli schiafali, è caduta, ha pianto, sai te robe, no? Non lo so, ma non lo so. Non lo so. Non lo so, non lo so, non lo so. Non lo so, signora, perché ha dormito due giorni l'altra settimana. Mi è successa una disgrazia domestica, che mi è successa. Mi è cascata la marijuana dentro il biberon, mi è cascata. Ah, ma ho detto, la lascio, tanto deve dormire, deve. Se dormi un'ora in più, un'ora in meno, che cosa hai solto tu queste pugnette per una molechina di marijuana? ma non lo so, non lo so, non lo so, non lo so, ma non lo so anche te dove è finita un acleto, la tartarughina, ma non lo so anche te, ma ti sei fumato il cervello, ti sei fumato, non ti ricordi più, non ti ricordi. l'hai presa l'altro giorno, ti scherà sporco, la tartarughina, l'hai passata sotto l'acqua, dopo due minuti un fumarone, l'hai bollita l'hai, non ti ricordi? Ma adesso stasera, buon conto, te la ripasso in padella, te la ripasso, così impari, 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 ma non lo so, ma non lo so, ma non lo so, ma non lo so, ma adesso sta limonina sta, guarda un po' di televisione, che ti fai un po' di cultura, ti fai un po' di cultura, ti fai, ma non lo so, ma cos'è sta roba qui? Mi serve beh, questo il laccio, con questo ti leggo a te, che mi hai fatto due marroni, mi hai fatto, ma non lo so, ma non lo so, ma non lo so, adesso guarda la televisione, guarda, c'è un scadore, la vogliamo tirare giù sta televisione, questi qui sono ricchi, hanno i soldi, capito, c'è il plasma, c'è questa, piena di bagliocchi, è piena, la tiriamo giù sta tv, non lo so, non lo so, non lo so, non lo so, ciao amicici, madonna, che emozione, oddio, ho detto madonna, si può dire madonna, oh madonna, ho detto oddio, si può dire di io in tv, ah, bim bum bam, ciao amicici, che emozione, io vorrei ringraziare tutti coloro che mi hanno detto di venire qua questa sera, perché per me proprio c'è un'emozione grande, che mai, bim bum bam, anche se adesso, ho detto tra me e voi, io non lo so mica cos'è che sono venuta a fare questa sera, c'è praticamente una mia amica che fa la pittrice, mi ha detto guarda, vai su dada con la tua cartelletta e dici due cose, capito, che tra l'altro poi, io e questa mia amica pittrice, lei dice che sono diventata la sua musa ispiratrice, il suo muso, poi non ho mica capito bene, dice che fa dei gran quadri con la mia faccia, bim bum bam, pensa a te, però io stasera non sono sola veramente, cioè io sono venuta qui con il mio sottopierre, hai capito, ciao, guarda che bellino, ci assomigliamo anche un pochino, ecco il carino, l'abbiamo preso la pass, va che bellino, di ciao amico, comunque di cosa vuoi, però io la mia amica quella, scusa, voglio andare di qua, ecco la mia amica, quella che fa i quadri, dissi, diventate proprio così, capito, proprio, che mai, perché lei è una tipa molto new age, art nouveau, con quella vena di iperrealismo, che non guasta mai, capito, madonna che paroloni, comunque io stasera sono anche un po' fusa, non so se si vede, perché praticamente ieri sera, ieri sera, mi hanno dato un premio che mai, bello che mai, il cubo d'oro per la mia discos, ecco allora, punto, facciamo lo sponsor alla mia discos, discos bim bum bam, è una roba bella che mai, cioè abbiamo diversi tipi di musiche, tipo la sala con le musiche remixate degli sbandieratori, fino ad arrivare al soul to soul, R&B, funk, hard rock, arbi sex, art and run sex, insomma, proprio spaziamo in tutti i generi, capito, e infatti guarda, abbiamo il bello, il brutto, abbiamo tutti lì dentro, infatti te lo dico, raccogliamo una denuncia al minimo una sera, ma di cosa ci vuoi fare, bim bum bam, pazienza, capito, e poi ci sono generi umani proprio di ogni tipo, tipo c'è quello che è convinto di essere bisessuale perché fa l'amore due volte al mese, poi ci sono gli intellettuali che mi vengono a parlare del punto G a me, a me, di ma a me che io mi sono anche installata un navigatore satellitare, ma lasci andare, e va là, infatti una l'altra sera gliel'ho detto, Ni, te sei sempre alla ricerca di quel punto lì, a me basterebbe che ogni tanto qualcuno sa girassene dintorni, così, capito, proprio pian pianino, eh, bim bum bam, e poi ci sono, ci sono tutti i tipi, mi viene a trovare anche lui ogni tanto, viene, bellino, ci sono tutti i tipi, per esempio, ci sono, anche quelli, i mistici proprio, praticamente sono dei Buddha, vestiti con la tuta dell'Adidas, aperta fino a qui, aspetta, vai giù, bella, aperta fino a qui, dall'interno di fuori escono 5 centimetri, una spanna di pelo nero duro, cattivo, all'interno del quale c'è quel povero Gesù Cristo, crocifisso, poi non mi fanno appena, una sera, a momenti glielo strappo dal collo, guarda, veramente, poi ci sono anche, non lo so, quelli che, molto anni settante, capito, con quei colletti alti, un po' per il colpo di frusta, probabilmente, insomma, spazziamo veramente in ogni genere, per lei, ma anche per lui, per lui ci abbiamo le pitonesse, ci abbiamo quelle che si vestono un po' così, i capitoni, veramente tipi, generi, ci si può veramente imbizzarrire, sbizzarrire come si vuole, va bene, ma cos'è vuoi? d'altra parte, cioè, è inutile, se facevo il localino da fighetto, chiudevo dopo quattro mesi, capito, allora ho fatto un po' un buttassù, e ci appassio, prendiamo, prendiamo un po' di tutto, allora amici miei, io, veramente, sono arrivata alla fine, avevo questi cinque minuti, solo cinque vedrai, e tu, al bim bum bam, ci tornerai, ciao! Adesso ti do la papa, il pognini, non c'è una fame, mi sa anche lui. Aller, 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 tu cussi, raffaigne, avevo, avevo, alla bim bum, bim bum bum bum, bim bum bum, bim bum bum, bim bum bum, bim bum bum, buong 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 bu Come se la va, va tutto bene? Ha servizcore a voi? Allora? Bon. Allora. Grazie molto, ma tutta in quel. Moi, io sono Lala, la seconda tata di Manzarolico. Oui? Traduzione. Io sono Lala, la seconda tata di Manzarolico. Bon. Allora. Scusi-moi per questa era emozione, ma sì? Qua teniamo di capire che c'è l'era emozione lì? C'è capire? Bon, bon. Lala. Se avete bisogno di fare di gruppo di lavoro, hai film tutto in quel. Hai film in sé. Bon, bon. Lala. Moi, ho tenuto la Manzarolico dai 7 ai 15 anni. Ma sì? 7 ai 15 anni. Eh, Lala. Oui. E la sera qui dria? La sera qui dria, dira? Dria, ma quel tendon? Oui. Pourquoi? Moi, ho guardato la Manzarolico. Ho toccato di tenere la doccia, ma la Manzarolico. Non si sa mai quella che le cusca la combina, eh? Ho toccato di tenere la doccia, ma la Manzarolico. Ho toccato di tenere la doccia, ma la manzarolico. Ho toccato di tenere la doccia, ma la manzarola. Ho toccato di tenere la doccia. No Moi Moi Alla cosa fare Tutti i colori Ma la manzarola Noi Noi Oui Alla cosa fare L'orange Le violette Le bleu Le marron Le noir Le cidre Tutti i colori In quel Vabbè? Là Eh Ma dai 7 ai 15 anni 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Vi bisogna de traducion? No Oui 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 Amant Anche la burdella L'amma fatte Vida la palina Moumoa Oui I amacard Amacard Un mocha drobi D'ontra Asta capoce Qui a eu Mocha drobi T'ai capi Amacard Que l'era una noite Oui L'era proprio una noite Quand è que l'air torna ma la maison Imbriega fraida Come un graton Oui Dopo che l'estè da magnifura Avec un administrateur Delegué D'un grande Grande société Un administrateur Que l'armistè va Il trafic Va Sa le féminine Ne le pute Non Dans le nord Dans le sud Dans le est Dans l'obèse Tout in quel Voi de la vie capi Oui Associez moi Associe moi A organiser La magné d'Aquilé Oui Pourquoi 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 Tu te demanderais Pourquoi Eh A quinze anni Si vous guadagnez La pagnota La baguette Où tocca Ste soda Che divano Da so re so fa Et où tocca Trouver la veur De travailler Et si tu ne trouves La veur Où tocca D'ouvrir Quel ketè Anche quel ketè Bon Oui Oui Ma moi Moi A j'ai védé Ma la manzarolique Pendant qu'il tourne A marakman Pendant qu'il t'a fait Amagné S'il t'a fait S'il t'a fait Nous t'embrièguer Comme un raton Mais nous Pourquoi S'il t'empile Et t'es capi Hein Hein Elle y a non La mère tourne Ma la maison Il t'embrièguer Comme un raton Oui Oui Elle passa So Quatta 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 Comme un A voi Pas So D'ontre La sua Chambre Oui Pensant La nouvelle Sa Lior Mi So Rémi Hodge Mais non Mais Invece Moi A regard Touting Quelle Vi Capi Moi So Comme un Faro Alla Tengo Doce Alla Vesta Moi Que Le Ritorne In Briega Que La Brotte In Pistede Oui Il De Dop Il Su Baban La Adman Un Araba La Adet Tengo Senti Moi En Vois Sabe Niente Custe Fatir Sir Ma Custe Combine E la burdella, grazie a lei ha detto Moi, non, io sono andata con mio amico a fare qualcosa di un paese Con mio amico a fare qualcosa di un paese Un paese, non so, non so, non so, non so, non so, non so, non so E il suo bambino, lei ha detto E la sua mamma, quella che sta sempre sotto, dai da sotto, te capi? Lei ha detto Ah, se per quel, Karen, l'ha anche cagata e l'ha niente treggiola E io, non ho capite, non so, non so, perché E il suo bambino, il suo maman, riempio e non c'è di un Trump Cosa, c'è l'ho trèdare, come una fiola Cosa, c'è l'entraudata D'où la crème, d'où la crème, d'où la crème, d'où la crème de la societé ?